Vi rubo due minuti per fare un velocissimo day after di Interfrosi 9, c'è niente da lì, paradossalmente dico quello che ho detto ieri, che magari dall'esterno alcuni divosi non interisti dicono che l'Inter non abbia giocato al massimo, può essere anche vero, ma a questa Inter basta poco per imporsi, come tutte le squadre si concedono delle opportunità a Sommer, su Marchizza è presente, il palo di Ghettila, Frosinone ha giocato a calcio, Frosinone ha giocato a calcio, e questa è una vittoria ancora più importante, Frosinone ha metà classifica, non è l'impasso, gioca a calcio, non ha paura di giocare, e di Francesco, sta ritrovando lo spolvero che gli competeva una volta, ha trovato la dimensione, ha trovato la squadra per fare azzittire tutti, ma in zai, azzittisce tutti ancora una volta, tutti i gufacci maledetti, tutti i zii, ecco, due minuti, questo è Di Marco, che è grande, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, e domani, domani video, e poi ci ritroviamo qua, per fare un riassunto, per la giornata, bella.